12 mesi esatti dal terremoto della scorsa estate che mise in ginocchio quasi tutto il Basso Molise. Un sisma silenzioso così era stato definito in quanto fortunatamente non ha causato vittime, ma allo stesso tempo se ne è parlato davvero poco specialmente fuori regione. I danni però sono stati tanti per mesi, diversi centri della zona sono rimasti letteralmente in ginocchio attendendo interventi di regione e stato che in parte devono ancora arrivare. Uno dei paesi più colpiti è stato sicuramente Guglionesi e proprio il sindaco Mario Bellotti traccia un primo bilancio della situazione odierna. La situazione è ancora critica anche se è in leggero miglioramento, abbiamo ancora 50 persone sgomberate che sono oggetto di autonoma sistemazione, autonoma sistemazione che per via di tutta una serie di controlli burocratici arriva a rilento. Abbiamo un immobile dello IACP che è stato prevista la demolizione e la ricostruzione, però ai tempi non si sa quali saranno. Abbiamo Palazzo Vernucci che però abbiamo già il progetto esecutivo e nei prossimi settimane apparteremo i lavori di rifacimento delle fondamenta e quindi ci lascia ben sperare. Anche per la sede del liceo pedagogico ci sarà ancora da attendere, ma a quanto pare la nuova sede scolastica sembra mettere al momento tutti d'accordo, il sindaco però lamenta la poca attenzione per le problematiche da affrontare. Abbiamo visto trattamenti diversi rispetto ad altre realtà che pure hanno subito terremoti e altre calamità, non ci è stato riservato lo stesso trattamento, non si è parlato, nei vari decreti non abbiamo avuto una parità di trattamento insieme agli altri e quindi questo ci duole anche perché è vero che per fortuna non ci sono stati feriti e non ci sono stati morti, ma i danni sono notevoli e per comuni come i nostri che già vivono una crisi economica profonda diventa veramente difficile poter ricostruire e dare delle risposte alle persone che soffrono ancora. Al momento vengono evasi i fondi per la ricostruzione leggera, per quella pesante si aspettano invece ancora segnali. Fondi per la ricostruzione, intanto la ricostruzione leggera, cosiddetta leggera di 25 mila euro, qui a Guglionesi ci sono state 16 richieste, sono state evasi per il momento di cui 7 sono state evasi, ma gli altri sono in fase di completamento, ci sono state addirittura ulteriori richieste avvenute fuori termine, però pare che rientreranno anche loro in questo finanziamento, nei prossimi 20 giorni ci sarà il primo accreditamento del 40% e a fine lavori del 60%. Per quanto invece riguarda la ricostruzione pesante stiamo ancora aspettando questo decreto che disciplini la ricostruzione pesante.